I carabinieri di Salerno hanno messo fine alla latitanza, lunga sette anni, di un noto professionista di Roccapiemonte, il dottor Gaetano Polichetti, medico-psichiatra. Era stato condannato in primo grado alla pena di 12 anni di reclusione, con sentenza confermata in appello per i delitti di violenza sessuale aggravata dall'abuso delle condizioni di inferiorità psichica perpetrate nei confronti di almeno due pazienti. In seguito al passaggio ingiudicato dopo la pronuncia della Corte di Cassazione, beneficiava della prescrizione con riguardo ad una delle vicende e conseguiva la riduzione della condanna a sei anni di reclusione. Il medico, subito dopo la pronuncia della Cassazione, si rendeva irreperibile, restando latitante ininterrottamente dall'anno 2011 al 9 giugno 2018. L'uomo, 74 anni, è stato scoperto a Milano, piazzale Loreto, con la moglie. Gli inquirenti hanno rinvenuto documenti con nominativi falsi. Dopo l'arresto è stato associato alla casa circondaliare di San Vittore.